Il Palermo prova a smaltire la sbornia dovuta alle quattro reti incassate domenica dalla Roma e a guardare già oltre. Il turno infrasettimanale di campionato offre ai rosa-nero già giovedì la possibilità di rifarsi. Il calendario porrà davanti a Diamanti e Compagni Ludinese in cui si cominciano a vedere i primi effetti della cura del Neri. I friulani sono reduci infatti da due ottime prestazioni, la sconfitta pur onorevole di Torino con la Juve e l'ottima vittoria domenica col Pescara. Proprio contro i bianconeri De Zerbi dovrà ripartire dal gioco. A tal proposito l'ex tecnico del Foggia ai microfoni di Sette Gold ha chiarito il proprio punto di vista ribadendo che è proprio giocando come fatto finora che si otterranno i punti necessari alla salvezza. Alla tesi di un Palermo troppo offensivo il tecnico risponde abbiamo giocato a cinque dietro con due mediani davanti alla difesa e ne abbiamo presi comunque quattro dalla Roma. Ma se il Palermo si conforta con la prestazione e cerca i risultati l'Udinese invece ottenuti i primi tre punti della gestione del Neri adesso è in cerca di uno stile più gradevole. I friulani hanno ritrovato l'apporto di Zapata ma soprattutto di un terrore apparso spento sotto la gestione Iachini e che adesso si candida al ruolo di pericolo pubblico in vista del match del Barbera. Nel complesso comunque di una squadra ritrovata per entusiasmo ed energie, gli stessi elementi che De Zerbi deve rinfocolare al più presto nello spogliatoio e nell'ambiente rosa-nero.